e penso mi servirà una nuova come vedi sto cercando di addestrarlo ma ogni tanto morde la mano che lo nutre d'accordo speravo che potessimo risolvere il mistero del povero Clive Rosfield un portatore dell'esercito imperiale inviato oltre le linee nemiche con l'ordine di attendere l'inizio degli scontri per tagliare la gola alla dominante nel caos non sapevo fosse lei non capisco quindi per salvarle la vita hai ucciso il tuo sergente per poi scappare tra le colline dimenticando come l'impero solitamente tratta i disertori perché con quel marchio amico mio sai bene che non farai molta strada sei caduto molto in basso Lord Rosfield non si dica che sono un cattivo ospite cosa vuoi farne di lei farne? beh niente sarà lei a deciderlo se avessi voluto usarla starei parlando con te voglio soltanto aiutare i dominanti come lei i marchiati come te certo il regno non approva per questo stiamo in una caverna e per questo ci serve aiuto da marchiati che sanno usare bene la spada che ne dici Clive? vuoi unirti? sì sì giusto confido che tratterai bene Jill ma finché non avrò la mia vendetta percorrerò la mia strada vendetta? mio fratello è stato ucciso da un secondo dominante del fuoco ah la fenice malvagia oh cavolo un'altra diceria che si avvera se oggi mi trovo qui lo devo a Joshua ho atteso questa occasione per tredici anni ho dormito per terra devuto del fango e ucciso non so più quanti uomini hai ragione l'impero non perdonerà un disertore questa sarà la mia migliore occasione l'ultima per questo dovresti unirti a noi te l'ho detto non sono interessato lo so uno dei miei scout ha individuato un gruppo di marchiati in fuga a nord da qui nel villaggio imperiale di ala perduta secondo lui in mezzo a loro c'è un dominante del fuoco ne è sicuro? perché non glielo domandiamo? non vuol dire che mi unirò a voi prepariamoci forza nel salone troverai tutto ciò che ti serve più qualcosa che non ti serve divertiti oh no sta venendo qui Guts giusto forse puoi aiutarmi Seed mi ha chiesto di preparare la missione come dovrei muovermi qui? oh beh c'è la vecchia nan a pensarci bene meglio se prima fai un salto da Blackthorn un fabbro e forgia sia allora aspetta no fermo ti servirà questa altrimenti Blackthorn non ti considererà e potrebbe non bastare sei tu Blackthorn perché? non ho tempo per le chiacchiere non sono qui per quello accompagnerò Seed dalla perduta e ho bisogno che controlli il mio equipaggiamento potresti anche accompagnare la dea Grigor nelle sue sacre camere da letto non alzerò un dito per te davvero? allora la vuoi o no? se no me la tengo dannato Goetz va bene va bene ma non mi mettere fretta vediamo come sei messo oh non resisterebbe neanche a una scoreggia di Boguri maledetti imperiali condannano i portatori a morte con questo equipaggiamento farò il possibile soltanto come favore a Goetz con questa cintura siamo pari se vuoi qualcos'altro dovrai portarmi i materiali lo terrò a mente grazie un consiglio non lasciare che Seed decida cos'è meglio per te dovrò ringraziare Goetz ti ringrazio ha funzionato io forza su siamo arrivati tu coperte fai in fretta bene mettiamolo comodo mentre preparano il letto eh state lì impalati qualcuno porti dell'acqua vado a prendere un secchio tu va a vedere se a otto serve qualcosa sì vado il secchio cosa? ehi ma io in che cazzo di casino mi sono cacciato chi sono? portatori imperiali liberati e tu chi sei? merda così non supererà la notte pensi di trovare le scale dell'infermeria ci serve Taria su dai muovi quelle chiappe Taria era quella che badava a Jill la tua amica deve riposare le rimpatriate strappalacrime dovranno aspettare non sono qui per Jill ti vogliono di sotto dei portatori feriti hanno bisogno di cure perché non l'hai detto subito? te l'ho detto non so lui si rimetterà ma dovrò visitarli entrambi in infermeria ci sarà molto da fare un'altra bella giornata al rifugio molti portatori arrivano qui in questo stato non è semplice liberarsi delle catene per molti di loro è già troppo tardi una volta trovato il coraggio questi sono quelli fortunati mi chiamo Otto se hai bisogno chiedi pure allora Otto vorrei dei rifornimenti ah davvero? allora Lady Caron laggiù sarà più che lieta di aiutarti bene ah e grazie ci vediamo ne dubito rimarrò poco è così eh? beh finché sarai qui con noi considerati il benvenuto ci hai aiutato ce lo ricorderemo chi sono queste persone? pare siano sfuggite ai loro padroni nella capitale imperiale qui cade tutto a pezzi merda ci serve altro legname ma se mi allontano per prenderlo finirà per crollare tutto oh ehi tu tempismo perfetto saresti così gentile da portarmi del legname sì nessun problema oh grazie farai un grosso favore a me e al rifugio questo posto richiede parecchia manutenzione più di quanta ne possiamo fornire sì mi sembri decisamente impegnato puoi dirlo forte i decaduti erano abili non fraintendermi ma le loro creazioni non sono eterne per questo le pareti vanno puntellate non possiamo permettere che i nostri bei raccolti vengano schiacciati non è vero? no immagino di no d'accordo dove trovo il legname? chiedi da Aza il bianco lì ti daranno le indicazioni grazie ancora apprezzo molto l'aiuto scusate l'uomo al lavoro nel giardino mi ha chiesto un po' di legname ah deve essere Jeffrey il mastro carpentiere fortuna vuole che abbiamo appena tagliato del legname prendine pure quanto vuoi dalla pila grazie ma figurati ti ringrazio io per l'aiuto ecco fatto farò meglio a portarlo a Jeffrey mi pare ah rieccoti spero non sia stato difficile trovarlo è sufficiente andrà benissimo grazie se siamo fortunati le pareti dovrebbero reggere ancora un po' beh sembra pericoloso oh non è poi così male e decisamente è meglio delle alternative siamo al sicuro e al caldo che cosa vuoi di più non preoccuparti e prendi questi li meriti benvenuto tra noi non c'è bisogno di non è questione di bisogni amico ora sei uno di noi dici che dovremmo dare una mano non credo ah una faccia nuova e nuove mani volenterose spero il ciocobo grasso è un'attività impegnativa e siamo troppo pochi per tenerla in piedi posso convincerti a consegnare un paio di pasti a chi ha bisogno di sostentamento per il disturbo posso offrirti il contenuto del mio baule e la mia eterna gratitudine non vedo perché no magnifico ed esattamente con chi ho l'onore di parlare Clive lieto di conoscerti Clive io sono Kenneth e mie sono le stanche spalle su cui grava il peso di questo stimato locale ora ho tre clienti affamati che attendono il loro pasto prendi questi se vuoi ma fa attenzione scottalo un pasto caldo da quanto non ne vedevo ti rendi conto neanche un goccetto col vecchio August prima di rinchiudersi nel suo solario tieni oh ti ringrazio spero di non sembrare pigro perché aspetto di essere servito come un lord sai il mio vecchio padrone non è stato molto gentile con me mi ha lasciato mezzo zoppo a dire il vero ma Sid mi ha accolto lo stesso beh il rifugio è la casa che non ho mai avuto una gran bella casa direi quando lo scorrazza in giro Sid se ne sta rintanato medita pianifica dagli prego il tuo pasto fantastico non vedevo l'ora beh sembra proprio delizioso grazie ragazzo sei nuovo vero? Kenneth ti sta già mettendo sotto immagino vecchia canaglia beh ha detto che mi darà qualcosa per il disturbo ci mancherebbe non siamo più schiavi ormai è stato un piacere ragazzo e continua così bene 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 l'agricoltura non è soltanto semi e fertilità del suolo il tuo pasto un momento finisco una cosa non sarò un peso in qualche modo sono già utile a tutti ma forse se padroneggerò questo sì d'accordo ma cerca di mangiare prima che si freddi certo grazie quello era l'ultimo devo riferirlo a Kenneth il tuo volto non mi è familiare sei nuovo nel rifugio per caso? diciamo così beh allora ti do il benvenuto sono Arpocrates Iperboreios è un eh un nome altisonante lo so per questo qui tutti mi chiamano semplicemente biblio in riferimento ai ai libri che mi tengono compagnia e che compagnia sono un collezionista sai non di ninnoli e bijoux ma di storie la storia e la cultura di queste isole mi hanno sempre affascinato notevolmente ma ahimè i miei viaggi per il regno in cerca di nuovi racconti sono ormai finiti così ho deciso di condividere quello che so con chiunque voglia ascoltarmi forse tu vorresti ascoltarmi quando ero molto giovane tuttavia al mio arrivo fortunatamente ci sono delle note che potrebbero interessarti non credo che tu abbia mai letto questo capitolo in passato se hai una domanda per me sarò felice di rispondere hai scoperto qualcosa di utile? non sapevo ti immagino ottimo erano portatori tutti e tre non schiavi agli ordini di un padrone ma uomini che aspettavano il cibo da pari infatti l'uguaglianza è il pilastro su cui si fonda la nostra piccola comunità oltre queste pareti siamo ancora considerati schiavi parliamo solo se interpellati mangiamo solo gli avanzi che ci lasciano i nostri padroni il pasto caldo qui spesso è il primo che assaggiamo nel rifugio siamo liberi davvero liberi di parlare come e quando vogliamo di mangiare quello che ci piace mangiare questo basta per fidarci della visione di Sid tu non credi? ora ti avevo promesso qualcosa per il disturbo no? quello che c'è nel mio baule è a tua disposizione fanne ciò che vuoi grazie Clive torna a farmi visita d'accordo? dici che dovremmo dare una mano mi servono provviste per il viaggio ad alla perduta Otto ha detto che potresti averle ma come? il nuovo arrivato pensa di poter venire a fare richieste a una povera matrona senza neanche presentarsi sono Clive bene Clive mi dicono che il cane è tuo da quando ha seguito Sid fin qui gli ho sempre riempito la pancia e ha accarezzato il collo immagino che ora sia compito tuo a meno che tu non lo perda ancora non si ripeterà grazie per esserti presa cura di lui quindi? volevi comprare qualcosa? che c'è? pensavi che avrei regalato a Vossignoria le mie sudate merci mentre tu ti pavoneggi con le tasche piene di Gil? la vita non funziona così ragazzo quindi fammi vedere un po' i soldi spero proprio che sia tutto non troverai un prezzo migliore è tutto oh non hai che una manciata di Gil oh adesso vuoi lui dopo tutto quello che ho fatto per te d'accordo d'accordo allora farò un'eccezione ma soltanto per questa volta ho la bottega piena e devo fare spazio per il prossimo carico grazie non dirlo a me ringrazia il tuo cane a me Grazie a tutti. 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 Non un capolavoro, ma può andare. Ciao.